1994 prime elezioni della Repubblica senza partiti dell'arco costituzionale 1941 seconda guerra mondiale termina la battaglia del Keren in Eritrea 2000 Vladimir Putin è il nuovo presidente della Russia commenta il fatto del giorno Alberto Faustini direttore dell'Adige e Alto Adige oggi parlerò dell'economista del professore dell'uomo ucciso dalle brigate rosse Tarantelli